Scusate, 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 ragazzi scusate, scusate, ragazzi non spingete, non spingete, lo sappiamo, ragazzi fate i due passi indietro per cortesia, siamo in diretta come vedete, ragazzi se fate i due passi indietro tutti quanti riceverete una firma, ma indietro per cortesia, ragazzi fate i due passi indietro grazie, andate indietro per cortesia, ragazzi fate i due passi indietro grazie, questa sedia è pericolosa, intanto girerà dopo, girerà di nuovo dopo.